Come accade ininterrottamente dal 1964, anche quest'anno, nella giornata che precede l'Epifania, a Faenza si è festeggiata la notte del Bisò. A dominare la scena della piazza è stato il gigantesco Niballo, raffigurazione del guerriero Saraceno in carta pesta, che portato da un carro di buoi attende allo scoccare della mezzanotte di essere bruciato come rito di purificazione e di buona sorte. Dal mattino fino a notte inoltrata i cinque rioni cittadini nei loro rispettivi stand hanno distribuito alle migliaia di persone che hanno partecipato all'evento cibo e vino caldo, il Bisò appunto, servito in particolari ciotole di ceramica chiamate Gotti. Tradizione, folclore, tensione e rivalità tra i rioni sono stati gli ingredienti che hanno attraversato e arricchito questa particolare giornata di festa, che apre di fatto la stagione del Niballo. Ed ancora musica e divertimento hanno accompagnato l'attesa dell'accensione del fantoccio, vestito con i colori del rione vincitore dell'ultima edizione, nel 2017 è toccato al giallo, che non ha mancato di rischiarare e riscaldare questa mitica e amata notte.